Ciao a tutti, io sono Carlo Facchini, un musicista italiano e ho iniziato negli anni 80 la carriera musicale con la band Tempi Duri, prodotta da Fado, di Fabrizio D'Andrea Dorighezzi, era con me anche Cristiano. Poi ho avuto altre esperienze musicali. Nel 2013 ho avuto occasione, sono stato invitato a suonare in Cina e ero molto curioso di conoscere questo paese. Proprio da questa esperienza in Cina, questa esperienza mi ha dato modo di conoscere alcune persone, un giornalista, che poi ormai è diventato anche un amico, mi ha proposto a CGTN come musicista per questa staffetta. Per me è stato un grande onore poter partecipare con altri musicisti della Cina, dell'Islanda, uno dei cinesi è anche della Mongolia interna, quindi porta anche una cultura tradizionale, musicale, strumento tradizionale. La staffetta consiste in un brano che vede quattro musicisti fare le quattro parti come se fosse una staffetta. Inizia Hazar, che è un musicista cinese, della Mongolia. Poi c'è Miko, che è un percussionista, un batterista molto bravo cinese. Poi abbiamo Dr. Victor, che è un musicista DJ dell'Islanda. E la quarta parte tocca all'Italia, quindi concludiamo la staffetta con un finale italiano, che è in parte una mia composizione che va a sfociare però in qualcosa che volevo fosse molto popolare e quindi che potesse essere conosciuto anche dai cinesi e da altri popoli. Ed è da Rossini, il finale dell'over tour di Rossini, andiamo a concludere con uno sprint finale popolare, romantico, un po' italiano devo dire, questa staffetta di musicisti di diverse parti del mondo. Ciascun musicista in questa staffetta mantiene una propria identità e porta la propria cultura. Devo dire che i musicisti che hanno aperto la staffetta hanno lavorato in modo molto empatico, riuscendo a unire quella che è una cultura comune tra loro, i primi due. Il terzo si è inserito in modo altrettanto funzionale. La mia parte, dovendo andare a concludere con quest'idea che portava poi verso il romantico, verso il classico, l'opera, naturalmente si stacca un po' da quello che era lo spirito asiatico che ha aperto la composizione. Quindi io vado un po' a completare, a finire portando verso l'Italia la cultura del brano, perché l'Italia sarà poi la prossima organizzatrice dei giochi olimpici invernali e quindi l'idea anche discursa prima di iniziare il lavoro era un po' quella di concludere con un italiano che porti verso le Olimpiadi di Milano e Cortina. Volevo ringraziare i miei compagni di staffetta che sono Hazar, sono Mico, Dr. Victor e Carlo Facchini che conclude la staffetta per l'aiuto reciproco che c'è stato in questa preparazione. E poi un augurio speciale a Cina, Italia per questa staffetta che anche loro avranno modo di vivere tra l'Olimpiade di Pechino del 2022 e tra la prossima Olimpiade di Milano e Cortina che avrà luogo in Italia. L'Olimpiade è da sempre un momento di unità, di condivisione tra paesi all'insegna della sportività, della partecipazione e del gioco comune. Noi tutti apparteniamo a un pianeta che abbiamo tutti come casa e il mio augurio è che questa Olimpiade rinnovi la nostra capacità di essere uniti per il bene del nostro pianeta e della nostra casa comune. Quindi un augurio per buone Olimpiadi della neve del 2022.